E' la padrona che decide di fare un pezzo, un pezzo tra l'altro bello movimentato di qualche estate fa perché ci riporterà ai ritmi di qualche estate fa, l'osteopata gli sconsiglia di fare i pezzi veloci ma lei vuole comunque sentirsi ragazzina, con amore e capoeira arriva Simona Sventura! Grazie a te! Grazie a te! Grazie a te! Grazie a te! Simona! Grazie a te! Grazie a te! Grazie a te!